Sai suonare altri strumenti? Quindi ho avuto il mio momento così, un po' aperto diciamo anche a cose parallele, diciamo altri strumenti, ma sempre diciamo la risposta poi è no, insomma poi ognuno dà alla parola suonare un significato differente, la mia risposta è no, io suono il violoncello. Quali sono le tue emozioni più forti che provi quando suoni? Ma paura, questo non ho problemi a rispondere, guarda, ho una paura e sono terrorizzato, sono terrorizzato, sono smarrimento proprio completamente e ti dico, lo dico con grande serenità perché la mia più, una dei momenti più importanti per me è stato accettare questo discorso della paura, cioè che questo discorso di smarrimento in un qualcosa che evidentemente io considero gran lunga più grande di me, è in qualche modo è stato un accettare una condizione che è anche lo specchio di quello che provo per quello che faccio. È la paura che si ha verso un qualcosa a cui tieni più di te stesso, a cui ti sei dedicato, a cui sei devoto in una maniera totale e allora io per come sono fatto, quando mi ritrovo in questo tipo di situazioni ho un grande senso di paura che però mi piace anche appunto, perché è la dimensione di questa grandezza che mi sento di vivere in quel momento, non grandezza personale, di grandezza nella quale mi immergo, è come immergerti in un mare profondissimo che ti fa paura, ma al tempo stesso quella paura appunto è la dimensione del tuo percepire sulla tua pelle, dentro di te la profondità di quello che stai vivendo. Quali sogni hai realizzato? Ma questa non è facile, io guarda a me vengono in mente una marea di sogni che poi si sono conclusi non nel senso di sconfitta, perché poi la parola sconfitta vale quello che vale, soprattutto in relazione, cioè se esiste una sconfitta vale esiste una vittoria, ma francamente sono termini che mi interessano incredibilmente poco. Sono cambiato molto, ecco ci ricolleghiamo all'inizio, noi cambiamo, cambia la musica che facciamo come la facciamo, cambiamo noi e noi siamo anche i nostri sogni. Quindi pensare a un sogno che ho realizzato e quindi come un'idea di un punto che ho messo e dico io ho realizzato questo sogno, non è una domanda che mi faccio nel senso che proprio non considero l'idea di realizzazione di un sogno, soprattutto al massimo, guarda, ecco, se dovessi proprio parlare di un'idea di realizzazione di sogno allora mi piace pensarla nel futuro, cioè di cose da realizzare, non di cose già realizzate. Cose già realizzate, chi lo sa appunto, si cambia così tanto, magari il mio sogno di stamattina è completamente diverso da quello che sto sognando adesso mentre ti parlo e così via. Quindi non saprei, la mia risposta è che non credo che ci sia una risposta a questa tua domanda. Ecco. Cosa ti piace fare al giassonare? Quando hai un attimo? Dove vai e cosa fai? Ok, allora io vorrei moltissimo, moltissimo fare arti marziali, sono un fan assoluto, ma non lo faccio perché ho tutte delle fisime, delle paure, quindi non lo faccio. La verità è che considero l'idea del suonare come un'idea di un tutt'uno, cioè mi piace un'idea di avere, mi piace il pensiero, diciamo, di avere una dimensione globale del suonare, che il suonare non sia solamente il gesto meccanico, nel nostro caso, anche tutti noi quattro, dello sfregamento di un archetto su una corda, diciamo. Mi piace una dimensione di pensiero, del pensiero della musica, ognuno con il proprio pensiero, quindi con tutti i limiti del mio caso. Quindi che ti dico, mi piace moltissimo leggere, forse, cioè no, sembra, è un po' banale come risposta, però è la verità. Mi piace, diciamo, appena ho un momento, se ho un momento, tendenzialmente leggo. Fino a un po' di anni fa avevo l'obbligo di non leggere di musica, perché mi dicevo, quando leggo, cambio lettore. E invece devo dire che ho fatto pace con questa, che in fondo era solamente un'azione autopunitiva, senza neanche grandi motivazioni. Quindi, fondamentalmente, leggo. Se posso andare a teatro, sentire un concerto proprio al teatro di prosa, che amo molto, sono felicissimo di farlo. Amo anche molto dormire. Dormire è proprio una cosa che mi riempie di... Ah, ok. Quindi è anche un'azione, cioè, come dire, un'attività alla quale mi dedico molto. Dopodiché poi c'è ovviamente tutta la sfera personale della vita, che però, insomma, non è un momento di tempo libero, diciamo. Quella fa parte di ogni istante della mia quotidianità, sia che io suoni o no. Quindi, diciamo, la risposta sarebbe tendenzialmente leggo. Bene. Suoni spesso anche in gruppi da camera. Ti piace di più condividere il palco con altri musicisti o ti senti più al tuo agio a sonnare da solo? Allora, suono, per fortuna, e spero di farlo sempre di più, per fortuna suono molto con tanti musicisti. Ed è chiaramente un momento splendido. Appunto, è un rapporto che si rinnova. Non serve suonare sempre con persone sempre diverse. O anche sì, nel senso, è una relazione, è un rapporto che tu sviluppi con una persona. Quindi, quando incontri un musicista diverso, è un rapporto nuovo. Quando ti rivedi per la centesima volta con lo stesso musicista, è la centesima volta nuova con una persona che è cambiata anche lei. Allora, quindi, sì, assolutamente suono con altri musicisti, ho diverse situazioni, diciamo, stabili. Ho sicuramente un ensemble con cui, diciamo, sono il violoncellista, ensemble di Milano, si chiama Syntax. Collaboro con altri ensemble, con altri musicisti, con ensemble Chromosone, con cui ho appena suonato. Insomma, con tanti musicisti che stimo molto, che apprezzo molto, è uno scambio molto bello. Dopodiché, una gran parte della mia vita, artistica soprattutto, è in solitudine. Ed è una solitudine che per me, e ci ricolleghiamo anche qui a una risposta a una domanda precedente, è una solitudine che per me è molto bella. Viaggi solo, Michele, di solito? Viaggi solo? Viaggi solo? Eh, viaggio molto da solo. Viaggio molto da solo. Eh, guarda, mi piace tantissimo, mi piace tantissimo. In questo forse il discorso della lettura aiuta. Ehm, però l'idea proprio della solitudine, ecco, se c'è ad esempio una cosa che amo molto, è arrivare in una città da solo, e da solo, la sera, andare a trovare un posto dove andare a mangiare. Anche a Giacomo! Si vede che fra violoncellisti vi trovate! Evidentemente ci troviamo, sì, cioè, non lo so, non lo so da cosa deriva, forse è una, non lo so, non lo so, una perversione nostra, non lo so. Però, diciamo che, per rispondere alla tua domanda, vivo molto entrambe le situazioni, e trovo che siano splendide e piene di sfaccettature, entrambe. Qual è il tuo brano musicale preferito? Il mio brano? Sì. Allora, io, guarda, ti posso rispondere con il compositore, diciamo, chiaramente i brani a cui sono legato sono tantissimi, come per ognuno di noi. Poi io amo anche molto le canzoni, quindi è come se tu mi avessi chiesto qual è la mia canzone preferita. È alla stessa difficoltà di domanda. Ti posso dire che c'è un compositore al quale sono incredibilmente legato, pure troppo, nel senso che è un po' maniacale il mio legame con questo compositore, che non ho mai incontrato, che si chiama Franco Donatoni. È stato un compositore della seconda metà del Novecento, morto vent'anni fa, proprio precisamente, quest'anno sono vent'anni dalla morte, e lui è senz'altro la figura musicale nella quale mi ritrovo di più e a cui sono più legato. Quindi, se mi chiedessi un brano, ti direi Lame, per Vio non c'è lo solo, di Franco Donatoni. Grazie Michele, grazie mille, sei stato gentilissimo. Io ti vorrei chiedere se hai da spoilerare qualche cosa dei tuoi prossimi progetti, se ce lo vuoi raccontare. Domani vado a Venezia, c'è il Biennale di Venezia, e devo suonare un brano per violoncello elettronica e live video di Matteo Gualandi, un giovane compositore molto in gamba. Poi, subito dopo, la settimana dopo, sarò da voi, e la settimana dopo, poco più, resita la Bologna Festival, poi a Milano con Syntax, sempre un progetto per violoncello solo, e poi, per finire ottobre, sto una settimana in residenza a Macerata, per l'associazione Appassionata, dove lavorerò per violoncello elettronica su un progetto che sarà un progetto del prossimo anno. Ed è, diciamo, sarà il progetto al quale, insomma, un progetto a cui sono incredibilmente legato e verso il quale sto investendo molte energie mentali, diciamo, per cercare di organizzare questo nuovo percorso. Questo è ottobre. Ottobre. Noi chiudiamo sempre le interviste con tre buoni motivi per, e quindi io ti chiederei tre buoni motivi per essere violoncellista, ma soprattutto, anche se non si dice, ma soprattutto, mannaggia, per fare musica contemporanea. Perché, come sai, il nostro festival è tutto per le nuove generazioni. Ok, tre buoni motivi per fare musica contemporanea. Dunque, il primo motivo è che fare musica contemporanea vuol dire, per la mia esperienza, incontrare, avere occasione di interfacciarsi con ancora più persone, che sono appunto i compositori di cui abbiamo parlato prima, e intrattenere con loro, diciamo, una dimensione legata al creare, cioè al fare insieme, al vedere emergere un qualcosa come dall'argilla, vedere emergere un qualcosa che non c'era prima, e c'è. E poi, dopo, c'è. E questa è una sensazione molto bella, molto bella. Il secondo motivo per fare musica contemporanea è che, diciamo, se parliamo di musica contemporanea, nel punto di vista storico, cioè della musica che poi sono gli ultimi, almeno gli ultimi cento anni di musica, beh, si incontrano delle figure incredibili, si incontra un'umanità, anche qua torniamo ai compositori, se suoni questo repertorio puoi suonare la musica di Yannis Xenakis, che è stato un personaggio, un compositore, una figura umana, ma non stiamo più parlando di note, di suoni, niente, stiamo parlando di un livello umano, umanistico straordinario, quindi è un'occasione incredibile di crescita personale. L'altra, la terza, mi viene da dire che non la so, però la voglio trovare, un motivo per fare musica contemporanea è che scoprire cose nuove che non si conoscevano prima, tecniche nuove, suoni nuovi, possibilità nuove, in qualche modo vuol dire scoprire anche parti nuove di sé, con tutto quello che comporta scoprire parti nuovi di sé, perché non è detto che poi quelle parti nuove siano per forza parti che noi accettiamo subito, ma non è neanche così importante doverle accettare subito. Quindi sicuramente è un modo nuovo per scoprire e soprattutto per scoprirsi. Grazie. Detto ciò, noi vi ricordiamo l'appuntamento di domenica prossima, 4 ottobre, sempre alle 18.30, con i musicisti di Tempo Espagnolo, che avranno da dirci delle news sul festival, e vi aspettiamo con Michele invece il 10 ottobre alle Artificerie Al-Majah Aravena per il Festival's Club. Grazie a tutti e alla prossima. Ciao. Grazie. A presto. Grazie. Grazie. Grazie.